Siamo da camera per questa serata dedicata agli Special Olympics Biella per una raccolta fondi. Innanzitutto chi vogliamo ringraziare per questa serata? Senza dubbio Alessandra Ducci, vice direttore provinciale di Torino, che ha organizzato, ha coinvolto e è riuscita a realizzare una serata veramente fantastica. Una serata speciale, così come è stata denominata. Una serata di successo in cui c'è stata anche un'asta, si sono stati raccolti dei fondi, è ancora un po' presto per dirlo, ma più o meno? Credo che senza dubbio avremmo superato i 10.000 euro. Crediamo come Regione Piemonte in questa iniziativa e crediamo soprattutto che lo sport sia un'opportunità per tutti. E così deve essere e quindi abbiamo sostenuto con molta energia questa iniziativa sportiva. E poi sono coinvolto anche dal punto di vista personale perché conoscere questa realtà significa cambiare la vita delle persone in meglio e apprezzarne quella naturalezza che la vita ti offre. E invita tutti a partecipare, numerosi! Perché tu gareggerai? In quale disciplina? Moto, stile libero e dorso! E andrai velocissimo? Eh, spero! Di vincere qualche medaglia? Eh, sì, spero di fare bella figura, quello in cui ci metterò tutte le mie forze per riuscirci. Ci saranno dei tuoi amici, i tuoi compagni di scuola a guardarti? È la prima volta che vengono a vederti oppure sono già venuti a vederti quando gareggi? Eh, forse è la prima volta. Quindi sei ancora più emozionato? Sì! Allora in bocca al lupo invitiamo ancora tutti a venire a vedere Special Olympics, tutti quanti, non solo quelli di Bielo. Tutto il mondo invita tutti i Special Olympics! Allora in bocca al lupo di Bielo. Allora in bocca al lupo di Bielo. Allora in bocca al lupo di Bielo.